Federica Nargi e Matri si sposano nel 2018 Federica Nargi e Alessandro Matri si sposeranno quest'estate a Roma. Federica Nargi e Alessandro Matri continuano ad attirare l'attenzione del gossip, i due sono molto amati e seguiti su social. La coppia appare sempre più felice, soprattutto da quando è nata la figlia Sofia. I due stanno insieme da quasi dieci anni e adesso pensano solo alle nozze, sembra proprio che la piccola Sofia ha rafforzato ancora di più il loro amore. Al momento entrambi si dedicano alla loro carriera, ma l'ex velina distrescia la notizia a più volte dichiarato che intende organizzare le nozze a breve. La Nargi vuole fare le cose con calma, poche settimane fa ha fatto sapere che preferisce attendere la fine di Colorado per iniziare con i preparativi veri e propri. . A quanto pare, Alessandro e Federica diranno il fatidico sì quest'estate, tra giugno e luglio. . A farlo sapere è stato il settimanale d'Iva e Donna. . La cerimonia nuiziale sarà a Formentera dove i due si sono conosciuti. . Stando al settimanale le nozze dovrebbero essere programmate a Roma e al fianco della Nargi come testimone ci sarà l'amica Costanza Caracciolo. . La cerimonia nuiziale sarà invece a Formentera, isola molto amata dalla coppia. . È stata proprio in questa splendida isola che la Nargi ha conosciuto Alessandro Matri, ed ogni estate i due ci tornano insieme. . 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